Posti che mancano, loculi da liberare, concessioni scadute e defunti da estumulare. A Gela, nella settimana che precede il Natale, si scatena la guerra dei morti vaganti. No, non si tratta di un film di Romero, ma della polemica che da giorni infiamma il dibattito cittadino. Tutto nasce da un'ordinanza dell'amministrazione comunale che, nel tentativo di arginare l'emergenza loculi, aveva individuato circa 1600 sepolture da poter riutilizzare al cimitero monumentale. Si tratta di quelli già dati in concessione, senza però che gli eredi o gli aventi diritto abbiano avanzato richiesta di rinnovo. Di conseguenza, con l'ordinanza firmata, l'amministrazione ha previsto un termine di 30 giorni come avviso agli eredi per poi procedere alla scadenza all'estumulazione dei resti presenti che verranno collocati in cassettine di zinco da destinare agli ossari comunali. Una scelta che ha creato una vera e propria sollevazione popolare, partita dai banchi dell'opposizione e poi approdata sui social. Nel mirino dell'amministrazione, infatti, ci sarebbero i loculi ubicati nell'area più antica del cimitero. Tra i timori più forti, quello di vedere cancellata la memoria storica e l'identità culturale rappresentate dalle sepolture del secolo scorso, vere e proprie pagine di storie cittadine. A sollevare il problema, il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana, Salvatore Zuppardo. Il cimitero monumentale è un museo a cielo aperto. Lui è Remo Burocchi, è morto a Terranova nel 1927, non ha eredi. Questa lapide, loro sostengono, che potrebbe essere sventrata, potrebbe essere distrutta, perché bisogna fare posto per recuperare i loculi, bisogna fare soldi, bisogna fare cassa, perché è necessario sopperire alla mancanza di loculi. Si difendono dall'amministrazione, dal palazzo di città, dicendo che riconosceranno queste lapidi come storiche e quindi non le toccheranno. E allora chi, perché le altre di gente comune dovranno invece subire la distruzione di questi loculi? Questo è un museo a cielo aperto. Le fotografie raccontano un'epoca che è già passata, il linguaggio funerario che è cambiato è stato anche oggetto di tesi di laurea, le incisioni in marmore che non vengono più realizzate rappresentano dei reperti che vanno assolutamente tutelati. Un paradosso che va affermato assolutamente, secondo Emanuele Zuppardo, magari tutelando maggiormente il cimitero monumentale. Qui veramente si sta facendo scempio della nostra memoria storica, della nostra memoria di gelese. Qui dovrebbe il comune invece di togliere, restaurare le tombe, fare i vialetti, togliere le erbacce, dare la custodia a tutto questo. Ma qui succedono furti ogni giorno, anche di fiori, di lapidi, di vasi e di qualunque cosa. E non c'è nessun controllo. Prova a fare chiarezza il vice sindaco Terenziano Di Stefano, partendo proprio dalla rassicurazione sulle tombe che rappresentano l'identità storica della città. Non verranno assolutamente toccati. L'amministrazione comunale, assieme agli uffici, in questo periodo ha fatto un'analisi accurata di tutti quei loculi che sono all'interno del cimitero monumentale, ma anche del cimitero farello. Ovviamente tutti quelli che hanno veramente un carattere storico e culturale, come loculi, non verranno assolutamente toccati. Di Stefano fa chiarezza anche sulle presunte violazioni del regolamento in merito ai tempi per rivendicare la concessione. Chi fa queste accuse, tra l'altro da persone che sono all'interno del Consiglio Comunale, vuol dire che non hanno letto il regolamento. Un regolamento che risale al 1980 e che è stato modificato dall'allora commissario Rosolino Greco nel 2009. E noi oggi lo stiamo soltanto applicando perché siamo obbligati ad applicare quel regolamento. E per quanto riguarda la questione di un anno del rinnovo, quello riguarda le scadenze che sono prossime alla scadenza appunto dei 30 anni, ma non sicuramente fa riferimento a quelle scadenze che invece già ci sono da oltre 10 anni, 15 anni, che sono scaduti, anche perché questi soggetti, cioè gli eredi, sono stati già avvisati nel lontano 2009. Vi ricordo che vi fu anche una pubblicazione in gazzetta ufficiale in tal senso.